Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su Fortnite ovviamente in questo video ti spiego come aumentare gli FPS sempre grazie a dei vecchi metodi e nuovi quindi in questo caso c'è chi vuole aumentare gli FPS su Fortnite quindi giocare al meglio, giocare più fluido però dobbiamo per forza ridurre la grafica riducendo la texture grazie sempre al programmino Nvidia Profile Inspector in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina Media Fire che troverai così un pacchetto rare tipo per esempio un pacchetto rare come questo tasto destro sopra per estrarre il pacchetto rare extract to Nvidia Profile Inspector una volta estratto all'interno della cartella troverete così il programmino Nvidia Profile Inspector lo apri e adesso andiamo a fare le nostre modifiche quindi sui profili qui metti Fortnite quindi qui puoi fare tutto quello che vuoi puoi modificare la grafica a qualsiasi gioco che tu vuoi scrivi Fortnite e assicurati che sulla barra verde ci sia il FortniteLauncher.exe il Fortnite Client W64 Shipping trattino basso easy anti-cheat trattino basso eos.exe e il Fortnite Client Exe tutti questi qua ok poi una volta fatto scendiamo fino a giù fino a trovare l'anti-aliasing questo qua anti-aliasing trasparenzi questo qua 0 per alla fine deve finire con 0b trattino non c'è un trattino SS4x e sotto qua invece il 30AA Mod Replay ovviamente tu puoi testare questo programmino su Fortnite come vuoi puoi fare dei test sopra te lo consiglio molto di fare dei test sopra e vedere come ti esce fuori la texture io metto sempre il 30AA Mod però puoi anche mettere il 100 lo riduce sempre di più riduce sempre di più la grafica 30AA Mod ovviamente questo settaggio funziona solamente per quelli che hanno NVIDIA scendi fino a giù fino a trovare l'anisotropico filtro se qui è attivato su ON tu mettilo su OFF e sotto su Texture Filtering Texture Filtering Driver questo qua lo devi abilitare quindi premere ON e Texture Filtering Load Bias DirectX più 3.0 filtering OpenGL più 3.0 e una volta fatto applichi così le impostazioni su Fortnite premi più volte qua sopra se non ti piace la grafica come è uscita fuori quindi come è venuta la grafica su Fortnite grazie a NVIDIA Profile Inspector puoi sempre ripristinarla cliccando qua sopra Restore Current Profile quindi te lo riporta al profilo corrente quello alla normalità ti porta così alla grafica come ce l'avevi prima quindi il trucchetto era questo su come ridurre la texture su Fortnite per altri problemi scrivi sotto al video questo era il metodo su come boostare gli FPS al meglio e mi raccomando nelle impostazioni di Fortnite cerca di mettere la qualità tutta ridotta e il rendering sul 100% ok? così vedrai bene i Fortnite però la grafica è ridotta ma di parecchio quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao